Non voglio che la leggi tu, non la voglio leggere io. Pesce imparziale, perché noi siamo dei parti. Chiamiamo un lettore professionale a leggerla. Valeria Brea! Allegge il chiarimento. La legge è basilicata, prego. Chiarimento 29-11-2020, numero 10. In merito all'ordinanza 27 novembre 2020, numero 45, del Presidente della Giunta regionale, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ci si riferisce all'ordinanza numero 45, del 27 novembre 2020, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ordinanza, ai sensi dell'articolo 3,1 del decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, numero 35, dell'articolo 1,16 del decreto legge 16 maggio 2020, numero numero 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, numero 74, e dell'articolo 32,3 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, in materia di igiene e sanità pubblica, misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. Disposizioni di proroga dei termini. Al riguardo, le previsioni dell'articolo 1 del predetto provvedimento si interpretano nel senso che restano ferme e si intendono pienamente efficaci le misure dell'ordinanza numero 44, del 17 novembre 2020, per come vigente alla data del 27 novembre 2020, data di adozione dell'ordinanza numero 45, in riferimento. Nel corpo dell'ordinanza, e in particolare al dispositivo di cui all'articolo 1, la disposizione di proroga dei termini delle ordinanze precedentemente emanate non ha riguardato, in particolare, l'ordinanza numero 44 del 17 novembre 2020. Infatti, a differenza delle ordinanze citate nell'articolo dell'ordinanza numero 45, tutte aventi effetti con scadenza antecedente alla data del 27 novembre, l'ordinanza numero 44 all'articolo 3,5 definisce chiaramente l'efficacia della stessa fino alla data del 3 dicembre 2020, non necessitando, pertanto, di alcun atto ulteriore che ne possa prorogare gli effetti. In altri termini, le disposizioni dell'ordinanza numero 44 del 17 novembre 2020 sono attualmente in vigore e lo saranno fatte salve le eccezioni di legge fino alla data del 3 dicembre prossimo 21. Eh, chiarissimo!